Come anticipato una settimana fa da questo telegiornale, è stata firmata l'intesa a Cirignola, nel Foggiano, fra il locale comune e la provincia di Foggia, per la fruizione alle attività sportive dei ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario Pavoncelli del Palasport Cicugna. La fruizione sarà quinquennale. L'utilizzo della struttura rimane per le associazioni sportive che operano da diversi anni. Per l'assessore alla cultura Ofantina Rossella Bruno, cerchiamo di dare alla scuola agraria il giusto riconoscimento per la gloriosa tradizione che va avanti da lontano nel tempo. Riconsegnare uno spazio agli studenti e gestire l'utilizzo di quegli spazi da parte delle associazioni sportive con la massima trasparenza significa tornare ad essere pubblica amministrazione. La convenzione che avrà una durata di 5 anni avrà una spese di gestione ripartita 50 e 50% tra il comune Ofantino e la provincia di Foggia.